Io do il benvenuto a Luca Esposito, istruttore WISP. Ciao Luca, buongiorno e benvenuto qui sulla Voce del Portico Nair. Sì, buongiorno Mario, buongiorno a tutti i discorsatori. Grazie mille, grazie mille a Luca. Luca grazie per la tua disponibilità. Ricordiamo il numero degli sms per poter interagire con noi, il 351 569 49 55. Tante le domande da porre a Luca, il tema delle palestre e tutto, però partirei dalla prima, ovvero chiedere a Luca un po' di presentarsi, quello che lui fa, il percorso dell'istruttore, un po' quello che insegna, così facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori la figura di Luca. Sì, allora Mario, come hai ben detto io sono un istruttore WISP ormai da diversi anni e per WISP porto un corso che è un brevetto mio che si chiama Core Work Luca, ormai parliamo di più di 12 anni. Questo è un corso che ha avuto per fortuna molto successo, un corso di fitness. Un corso di attività aerobica, quindi di lavoro brucia grassi, di attività di tonificazione muscolare, utilizzando il corpo libero, utilizzando la fitball, che ormai è quella palla in gomma che si trova un po' nelle varie palestre. Quindi ecco, io lavoro appunto nella, se permettimelo di dirlo, nella palestra GQ, che è appunto una palestra WISP che si trova in via Cavalieri Ducati a Borgo Panigale e appunto porto questo corso da un po' di tempo, ecco, in WISP. È un corso che conosco perché ho avuto modo e il piacere di conoscere Luca ormai da diverso tempo, quindi ogni tanto ho un modo di intervistarlo e assistere anche alle sue lezioni. È un corso veramente dove si lavora tanto, Luca, e di questi periodi magari lavorare tanto, adesso poi entreremo un po' più nel dettaglio, però è un corso dove ci si stanca tanto anche. Sì, 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 certo. È un corso sicuramente molto intenso, un corso che oltre al corpo, come hai detto tu, lavorando tanto fa bene alla mente, perché diciamo tantissime cose ora come ora sono importanti da abbassare, come ad esempio il famoso cortisolo, che è l'ormone dello stress, che in questo periodo si è veramente da abbassare, proprio perché la gente sta, è un periodo che fa molta fatica a stare bene, proprio per la situazione che purtroppo ora ci stiamo proponendo. Esatto, esatto. Infatti la mia domanda è questa, Luca, perché le palestre vengono fermate, il periodo della pandemia, si stoppa, si tanto una ripartenza, intermittenza, alla fine, ad oggi si sta cercando un po' di capire quello che sarà. Prima di chiedere il tuo pensiero su questo, invece io ti chiedo un po' come ti sei organizzato, tu da istruttore, perché comunque facevi un'attività, hai dovuto sicuramente un po' stravolgere il tuo modo di insegnare. Ecco, vorrei anche che ai nostri ascoltatori tu raccontassi proprio questo, come ti sei proprio tu organizzato. Certo, allora, partiamo dal presupposto che ormai stiamo andando avanti con una nuova metodologia data da un anno, dal primo lockdown, quindi da marzo scorso. Noi in WISP ci siamo dovuti adattare in maniera forte alla situazione e quindi siamo stati, diciamo, tra virgolette, uno dei primi enti sportivi a lavorare con il famoso online. Purtroppo la situazione ora ci pone a lavorare in questo modo, sicuramente non lavorare in presenza, diciamo, ci ha penalizzato un attimino, però il lavoro online è stato veramente molto fondamentale, quindi siamo partiti appunto a marzo scorso con delle tecnologie, insomma, importanti, perché l'online non vuol dire lavorare male, ma utilizzando delle webcam, diciamo, importanti, televisori, eccetera, eccetera, siamo riusciti a lavorare comunque bene con i nostri soci, quasi a parità di lavoro, diciamo, in presenza. E niente, praticamente, come ti stavo dicendo, ora stiamo continuando a lavorare online, siamo settembre, eravamo ripartiti di nuovo in presenza, lavorando comunque, visto che il lavoro online ci ha portato dei benefici ad unisono, quindi lavoro in presenza e lavoro online insieme. E ora stiamo continuando con questa metodologia che per fortuna ci sta comunque facendo lavorare con dei benefici, anche se purtroppo c'è da dire che la situazione palestra, la situazione sport, ora come ora è abbastanza drammatica. E infatti, prima di addentrarci, la domanda che ti faccio è quanto manca questo rapporto poi con i tuoi allievi, con le tue allieve, sapendo che c'era una socialità. Adesso io mi permetto di dirlo perché alle tue lezioni ho assistito e vedevo proprio che c'era una bellissima atmosfera, il caso di sottolinearlo, proprio le persone le facevi lavorare tanto, però c'era un bellissimo ambiente. Quell'ambiente viene ritrovato anche nelle lezioni online sapendo che c'è una netta differenza, perché non c'è la presenza, ma c'è il discorso dell'online. Allora, intanto ti posso dire che sicuramente la presenza manca tantissimo, tu devi contare che hai il core work avendo diversi anni, ha contattante lieve, cioè parliamo di parecchie persone, 4-500 lieve, sono tantissime le ore infatti che faccio in GQ, perché sono 16 ore settimanali proprio per permettere a tutte di lavorare. Il lavoro in presenza manca molto perché la figura, ma oltre a mancare a noi come istruttori la figura del socio, manca tantissimo ai nostri allievi, proprio la figura dell'occhio, la figura di un, che ne so, ma anche solo, adesso sembra quasi tosta dirla, ma un abbraccio, una stretta di mano, un rincuoro, ecco. Però sì, manca di sicuro tantissimo questa figura. C'è da dire sicuramente che noi stiamo mettendo nell'online tutta la nostra energia e il nostro cuore cercando di far sentire comunque in maniera forte la nostra presenza agli allievi, sicuramente con un lavoro fatto bene, con una battuta, con un sorriso e quindi sicuramente questo tipo di lavoro ci sta aiutando ad andare avanti. Speriamo sicuramente Mario che si ritorni presto in presenza. La situazione ora, insomma, è un po' destabilizzante perché, appunto, purtroppo le palestre sono state, io penso che palestre, piscine, strutture sportive sono state veramente le più penalizzate e anche se possiamo parlarne, secondo me, ci siamo accorti tutti che, diciamo, sono ambienti dove non ci sono dei pericoli. Sottolineiamo questo Luca perché io sono venuto, spesso e volentieri, ho fatto un giro con le vostre palestre e il tema principale era la sicurezza perché la cosa più importante era far vedere questo e oggettivamente la sicurezza si è trovata perché il gel, lavarsi le mani, disinfettare tutto. Facciamo un passaggio su questo perché tante volte tu da istruttore, ovviamente insegnando, ma stando in una palestra, alcuni dicevano, eh ma in palestra la sicurezza, la paura, ecco, ci racconti un po' anche questo lato qui. Certo, allora io ti posso assicurare che le palestre in generale, adesso io parlo ovviamente per le palestre WISP che seguono i protocolli in maniera maniacale e anche noi abbiamo sempre seguito i protocolli del DPCM in maniera maniacale, quindi disinfezione, distanziamento, mascherine, tutto fatto alla perfezione. I dati infatti comunque dicono che non ci sono stati, non sono trovati dei focolai nelle palestre proprio perché secondo me gli ambienti che seguono in maniera, come ti dicevo prima, maniacale, i protocolli sono molto più controllati, secondo me sono più pericolosi, gli ambienti tra virgolette più necessari ma con pochi controlli. Quindi ecco, io ti posso dire che i protocolli sono seguiti tutti quanti. Ecco, secondo me una riapertura ora come ora è necessaria, ma soprattutto perché ormai sono diversi mesi, contando anche i mesi, prima di quella poca riapertura che abbiamo avuto, in cui siamo stati chiusi e comunque abbiamo subito, secondo me, delle perdite anche a livello economico, ma non parlo solamente di perdite a livello economico, ma anche a livello proprio di, come dire, di personale, morale, Fidelizzazione con i nostri allievi abbastanza importante perché comunque l'allievo lo devi fidelizzare, l'allievo hai bisogno di vederlo. Sicuramente, ripeto, l'online ci ha dato delle possibilità enormi, a me in primis perché oltre a lavorare con persone di Bologna, l'online mi sta dando la possibilità di lavorare tantissimo con persone anche fuori Bologna, quindi in tutta Italia e anche fuori Italia. Bene, quindi da un lato sei andato anche oltre, quindi l'online permette questo, è vero. E senti una domanda, quanto è mancato lo sport, in generale l'attività fisica ai tuoi allievi, alle persone, comunque le persone che hai incontrato, sapendo che abbiamo vissuto un periodo dove vedevamo, partendo dal primo lockdown, chi correva sui terrazzi, chi giocava a tennis tra un terrazzo e un altro, chi si faceva la camminata col cane, cioè l'attività fisica ad oggi, Luca, facendo proprio un bilancio, perché parliamo ormai quasi di un anno che la situazione è questa, e tu che vivi questo sport, cioè tu che vivi proprio nell'attività fisica, ecco quanto comincia a mancare adesso alle persone? L'attività fisica, come sappiamo tutti, è vita, è importante e manca. Io penso sempre a quelle persone che magari non lavorano online, anche persone di una certa età magari che non sanno lavorare o comunque che hanno proprio il bisogno di venire in palestra per patologie importanti. Insomma, l'attività fisica è veramente importantissima e basilare. Io ogni tanto incontro alcuni elievi che magari mi dicono, Luca, guarda io online non ce la faccio, spero che riaprono le palestre, mi scrivono tutti i giorni, quando riaprono, quando riaprono, proprio perché si sente realmente il bisogno di ritornare a fare attività e soprattutto si sente bisogno anche di potersi muovere, perché comunque il venire in palestra è anche una sorta di stimolo nelle persone proprio a fare attività, nel senso che il pagare un abbonamento, il prendere, l'uscire di casa, venire in palestra, incontrare persone, insomma sono tutti fattori scatenanti di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Quindi ecco, speriamo presto in una ripertura. Assolutamente, ti giro un messaggio, Francesca adesso lo recupero, dice Francesca, io ho sempre fatto palestra ma in questo momento ho molto timore, come posso superare questa paura? Chiedo magari un consiglio, un po' quello che secondo te può essere la tua idea, perché immagino che come Francesca tante altre persone magari vivono questa situazione, vogliono tornare in palestra, ma tra virgoletto ho paura della situazione. Certo, allora, io penso che se vengono, nelle nostre strutture, nelle strutture in generale, palestre, piscine, vengono attuati i protocolli in maniera corretta, non bisogna avere paura, anche perché, come ripeto, proprio nei luoghi dove vengono seguiti questi protocolli bisogna andare in maniera tranquilla, è molto più probabile, secondo me, essere contagiati in luoghi dove non ci sono controlli, in luoghi con delle affluenze troppo esagerate, parliamoci chiaro, ora come ora le strutture sportive sono con delle entrate continteggiate, hanno molte meno persone, ci sono molti più controlli, molti istanziamenti, le disinfezioni. Secondo me, ora come ora, i timori non dovrebbero esserci, anzi, delle due, secondo me, bisognerebbe incominciare a pensare di dare proprio una mano allo sport, perché realmente lo sport ha subito dei danni esponenziali, Mario, bisogna pensare di come dare una mano al commerciante che ha la sua piccola azienda, che ha il suo piccolo negozietto, perché bisogna fare questo, ora bisogna cercare di ritornare a dare una mano anche allo sport, sperando che le palestre riaprono, ritornando in palestra e continuando a lavorare in maniera serena e tranquilla. E la richiesta, poi la domanda che ti faccio, perché nel senso che la richiesta che poi voi fate adesso è che è passato un anno, c'è stata molta intermittenza, vi siete dovuti adeguare all'online, che per fortuna vi ha dato una grande mano, però nel senso volete far sentire la vostra voce e dire impegniamoci tutti quanti perché possiamo aprire in sicurezza, possiamo stare in sicurezza, ma abbiamo necessità di ripartire, cioè proprio una voce, anche la tua, mi presumo come tanti altri tuoi colleghi, che ci sia la possibilità di poter far ripartire queste palestre, magari proprio un appello che si fa anche al nuovo governo, diciamo che ci sia una maggiore attenzione. Sì, sì, hai perfettamente ragione, noi ci siamo resi conto purtroppo che tutto l'apparato sportivo è realmente messo in secondo piano, parliamoci chiaro, cioè non ci sono dei piani efficaci per far riaprire lo sport e degli aiuti efficaci, cioè purtroppo è veramente deludente questa cosa perché comunque l'operatore sportivo è qualificato, cioè quindi si vuole una persona qualificata, una persona preparata, perché parliamoci chiaro, il nostro lavoro è un lavoro di responsabilità, secondo me dovrebbe essere preso un po' più in considerazione proprio perché dietro c'è della gente che si è fatta, scusa mi lavorò alla Mario in marzo, quindi fondamentalmente è quello che dico, cioè sicuramente l'online ora ci ha aiutato a lavorare in una maniera differente, in una maniera comunque importante, ci dà la possibilità di lavorare con persone, come ti dicevo anche, che non sono del tuo paese, però bisogna tornare presto nelle strutture proprio per dare una mano alle strutture, una struttura ha bisogno di, insomma, di tanto, ci sono tanti soldi che partono su una struttura, è veramente un peccato, bisogna realmente tornare a lavorare in presenza, lavorando insieme all'online, ma tornare in palestra in maniera serena e tornare, diciamo, a riprenderci la nostra vita, veramente questa è la cosa più importante. È vero, ti giro intanto un messaggio di Marco, Marco ci scrive come funzionano nello specifico le lezioni online, quindi un po' vuole capire magari come ti organizzi tu, quindi proprio quello che fai, quindi così dietro le quinte, quindi se ce lo puoi dire. Semplicemente io sono all'interno della palestra con appunto una webcam e un televisore molto importante, molto grande e noi utilizziamo un'applicazione che si chiama, l'applicazione si chiama la Zoom, la classica Zoom, che è un'applicazione web, dopodiché non si fa altro che fare, intanzitutto si possono fare le prove, quindi una prova senza problemi, anzi, permettimi di dire che chi vuole provare può tranquillamente guardare Facebook, i siti della palestra GQ che è l'ente per cui lavoro io, o per della Wisp, o se qualcuno vuole provare anche il core work, mi faccio pubblicità appunto su Facebook, Instagram, core work Luca. Non percepiamo nulla da questo, quindi proprio lo diciamo. Core work Luca, si può fare, si può chiedere qualsiasi tipo di domanda, si può fare una prova, dopodiché se la prova piace, semplicemente dal momento che non si può entrare in palestra, non si può fare nulla, si fanno i classici bonifici agli enti sportivi per cui si lavora e si parte, molto tranquillamente, si parte, la lezione si fa in maniera realmente, io devo dire, proprio perfetta perché appunto come ti dicevo le strumentazioni sono importanti, io ho un microfono che mi permette di farmi sentire all'interno delle case e anche abbiamo dei processori che ci permettono di far sentire la musica anche in maniera corretta e limpida all'interno delle case. Quindi il lavoro, Mario, ti posso assicurare, visto che ormai abbiamo avuto un anno di tempo per testarlo come si deve, è veramente valido. Assolutamente. Veramente valido e niente, consiglio a tutti quanti di provare. Quindi Wisp, Facebook, core work Luca, Facebook, siti e vi dicendo. Anzi, provate, è realmente una cosa fattibile, una cosa importante e bella. Ti faccio una domanda, giungiamo verso la conclusione, un altro paio di domande, poi ti lasciamo andare, la prima è un po' anche quello che tu inizi a intravedere perché si è parlato di questa ripartenza, abbiamo detto, delle palestre, poi adesso si è un po' in stand by, però diciamo anche per voi, un po' la domanda che comincio a fare anche alle persone che intervisto e che sento, se si prospettano anche, diciamo, delle piccole linee entro le quali voi potete ancora arrivare ma dopo c'è necessità per forza di cambiare registro, oppure voi avete ancora un margine che potete stare così ancora per un po', nel senso anche un po' come la vedi tu, proprio dal tuo lato lavorativo. Allora, io, guarda, sicuramente in questo modo si può sicuramente ancora lavorare senza problemi. C'è anche da dire, Mario, che la gente dopo 4-5 mesi di online ha voglia di lavorare online ma voglia anche di vederci. Quindi il margine sicuramente c'è, ma stiamo puntando il più possibile al poter lavorare in presenza. Anzi, ti dirò di più. Tu prima hai parlato un attimino di possibili riaperture. Ecco, ma ancora, secondo me, il punto di domanda è ancora grande come quello di una casa. Nel senso che quando si parla di riaperture individuali, come stiamo sentendo un po' in questo periodo, parliamo di nulla. Cioè, una palestra non può aprire di sicuro lavorando individualmente con le persone. Cioè, stiamo parlando di palestre che hanno dei costi. Non è possibile. Se si dovesse riaprire invece con i vecchi di PCM, cioè il vecchio di PCM prima della chiusura, quindi col distanziamento di due metri, con mascherine, vi dicendo, sicuramente la cosa potrebbe essere fattibile. Anzi, ti dirò, noi stiamo appunto in prospettiva del fatto che si possa non riaprire, anche perché, come tu ben sai, domani torniamo di nuovo a zona arancione. La situazione mi sembra quasi paradossale. Stiamo già pensando di, visto che comunque il DPCM dice che se non si dovesse riaprire le strutture, probabilmente si potrebbe anche lavorare in esterno, in maniera, diciamo, in presenza. E questa è una cosa importante. Che dico, noi stiamo già ragionando sul fatto che se non si dovesse riaprire, potremmo lavorare anche in esterno, noi soprattutto nella palestra di cui abbiamo uno spazio esterno molto grande dove poter accogliere più persone. E ti dirò di più, lavorando in esterno, ovviamente negli orari dove, luce permettendo, potrei lavorare anche esterno e online insieme. Quindi portando fuori l'apparecchiatura. Diciamo che stiamo cercando di trovare sbocchi e di non lasciarci mai, diciamo, intimorire da questa situazione. Allora, è una bellissima notizia perché credo che sia molto importante per te, come istruttore, la possibilità di poter cercare di riaprirti proprio, non solo all'online, ma ovviamente agli stessi allievi, alle persone che frequentano il tuo corso e di riflesso ti dico anche quanto conterà per loro. Sapere anche una notizia di questo tipo che vi state organizzando per cercare di mettere nelle condizioni di sicurezza, perché noi lo sottolineiamo sempre, come abbiamo fatto durante il tuo intervento. Però anche per loro, Luca, sarà sicuramente una bella notizia, perché ad oggi è importante anche questo, cioè tornare un po' ad essere sociali e socializzare. E quindi lo sport e l'attività fisica ha come punto importante anche questo. Assolutamente, assolutamente sì. Sì, noi stiamo veramente, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo provando a imbastire anche questa nuova possibilità. E come ti dicevo, ovviamente ora, avendo anche parecchie persone fuori Bologna, che anche se dovessi lavorare in esterno, se dovessi essere suoi riaperture, hanno voglia e piacere di fare appunto il core work. Il mio corso continuerò, anche se saremo in esterno, a lavorare. Non le vuoi abbandonare, quindi. Assolutamente no, guarda, si è formato un gruppo, il gruppo core work, io la chiamo la famiglia core work, è grandissima. Siamo tutti, io cerco di tenere, io tengo molto ai miei lievi, tengo molto a quello che faccio, ci metto molta passione, loro lo sentono. Il gruppo che si sta formando anche fuori Bologna mi ha fatto uscire fuori un campanello importante dall'armi, mi ha fatto capire che ci si può espandere, insomma, puoi far conoscere la tua attività anche a tante persone che non possono fisicamente farla perché, come ti dicevo, non sono della città. Quindi, ecco, cerchiamo di trovare sbocchi e opportunità ovunque. Assolutamente sì, assolutamente. Incrociamo le dita, speriamo intanto in una riapertura, soprattutto in una riapertura in presenza, anche se in maniera un po' più, diciamo, ridotta, proprio perché dobbiamo realmente, Mario, riaprire queste strutture che sono lasciate da troppo tempo ferme e che si rischiano veramente di non riaprire più. Assolutamente, Luca, assolutamente. Quindi veramente l'obiettivo anche della Voce del Portico è tornare a parlare di questa situazione quando ci sarà un'evoluzione, quindi torneremo sicuramente a parlare col te. Io nel frattempo ti ringrazio, Luca, per essere intervenuto qui come ospite della Voce del Portico aver raccontato proprio la tua esperienza, ma anche il momento, perché credo che sia una voce importante appunto dal lato di un istruttore di una palestra, ma anche un po' come si è organizzato. Luca Esposito, grazie mille. Grazie a te, Mario, e ciao a tutti. Grazie mille, grazie mille a Luca Esposito, grazie, grazie mille.